L'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato pochi giorni fa l'aggiornamento del report che raccoglie dati sui superamenti dei limiti dell'OMS e dell'Unione Europea rispetto a una serie di sostanze inquinanti e di risultati per Cremona suonano come una sentenza senza appello. Rispetto ai 35 giorni consentiti, sono stati 62 giorni di superamento della media giornaliera di PM10 fissata in 50 microgrammi per metro cubo, la soglia di ozono pericoloso per polmoni e l'intero sistema respiratorio ha invece superato il valore limite per ben 53 giorni, mentre il biossido d'azoto ha raggiunto i 26 microgrammi per metro cubo di concentrazione media annua. Secondo l'indicatore di sintesi di inquinamento atmosferico dei capoluoghi nazionali calcolato dall'Istat, Cremona risulta tra le cinque peggiori città italiane, preceduta solo da Torino, Monza, Milano e Padova, con superamenti pari al 58,3% di tutte le misurazioni effettuate contro una media nazionale del 28,7%. Nel frattempo, mentre le amministrazioni pubbliche rimangono inerti, dando la colpa solo alla conformazione geografica della pianura padana e con sprezzo del buonsenso e del rispetto per la salute, invitano i cittadini cremonesi a cercare area pulita in montagna, un articolo appena pubblicato sulla rivista scientifica Elion da un gruppo di ricercatori dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università dell'Insubria, conferma la correlazione tra inquinamento e suscettibilità al Covid-19. Attraverso un modello statistico che ha messo in correlazione fattori demografici, ambientali e variabili climatiche, tra le quali il livello di radiazione solare, le due università italiane hanno evidenziato come i livelli di biossido e di azoto hanno avuto una correlazione con l'andamento dei casi anche durante l'estate, a conferma dei ben conosciuti effetti deleteri sulla salute umana e sulla suscettibilità al Covid-19 e per quanto riguarda invece le polveri, quelle più sottili, il PM2,5, hanno portato un peggioramento nella diffusione della malattia nel nord Italia, suggerendo che l'inquinamento ambientale abbia avuto ruolo non trascurabile nel promuovere il processo di infezioni in tutta la Valle del Po. Quello dell'inquinamento dell'aria, nonostante convegni e parole rassicuranti, è diventato un problema cronico certificato anche dalla lettera che i pediatri italiani hanno inviato i sindaci di tutta Italia per mettere in guardia i primi cittadini dei gravi rischi sulla salute dei bambini, ma che non sta trovando la giusta attenzione da parte delle istituzioni.